Ci doveva essere un bambino negro che negli anni 80 doveva far entrare questi quadratini qua, guarda vi faccio vedere, vedete questi diodi luminosi, rossi e verdi, doveva farli entrare dentro la mascherina, vedete? E non c'è altro modo che stare qui con tanta pazienza e cercare di farli entrare. Io pazienza non ne ho, li sto incazzando come una hiena, tra un po' li smonto e li rimuovo. Li devi risaldare poi, eh. Non so se sono saldato ora, dopo provo a staccarmi uno. Tanto pic non ti interessa. Esatto, forse è meglio se stacchi gli altri tranne pic, però, eh. Vabbè, ci riaggiorniamo dopo. C'è lo, ok, pic. Dai, pic, ti tolgo il pic rosso, che tanto il pic rosso non ti serve. Cioè, tu guardi, quando è verde vuol dire che va bene, se non è più verde, vuoi. Proviamo a vedere se si sfila, vediamo. No, non si sfila. Cioè, il bambino negro io lo sto ammirando tantissimo. Poi. Buongiorno. Poi. Poi. Preche. Poi. Poi.